Una giornata dedicata alla Confcommercio e a tutti quegli imprenditori che hanno attraversato quella che viene chiamata crisi da ben sette anni. A partecipare e lanciare esortazioni verso la ripresa è il presidente nazionale Sangalli che traccia un quadro del settore. Il significato di questa giornata innanzitutto è dire un grazie a questi imprenditori che da tanti anni portano avanti un impegno, un impegno di lavoro faticoso perché sette anni di questa crisi ha certamente segnato anche questa realtà produttiva. E allora questa dimostrazione deve anche essere sostenuta da parte nostra con un supplemento di impegno, di testimonianza, di attenzione. E anche da parte della politica il governo acceleri ed imbocchi un percorso in termini proprio anche di accelerazione attraverso le riforme, un percorso certo, graduale e sostenibile di riduzione della pressione fiscale. E che le famiglie che pure potrebbero spendere fanno più le formiche che non la cicala. Se hanno 100 euro da spendere li tengono in tasca immaginando tempi più duri e quindi bisogna avere un po' di fiducia. Se non riparte la domanda interna non riparte l'economia, sperando che la spending review dal governo alle regioni e ai comuni venga veramente attuata.